Il primo Giacomo è la collezione degli insetti, soltanto da ieri, c'erano 4. Lo scortino è dorato, bellissimo, che viene dalla Cina, anche bello. Poi lo scarabio smeraldo, che viene dal Giappone, bellissimo. La penna è gigante, sembra un po' così così, un po' scura. Si vede un po'. Ho la cimice d'acqua gigante, che è la più grande di tutte. Si vede tanto bene, però è bella. La viene dal Messico.